Magari avessi comunità autogestita oggi, Macao, nuovo centro per le arti di Milano sta per aprire. Siete tutti invitati a lasciare messaggi, desideri, suggerimenti per questo nuovo luogo presto a Milano. Come dire, dovrebbe essere un luogo dove si possono vedere delle cose, e si possono proporre delle cose, e forse è un luogo dove dovrebbe coinvolgere diverse anche fasce di età di persone. Ve la diciamo una frase a questi del Macao. Meccanici, apprendisti che aprono officine. Saluta. Ciao. Ciao.